in astronomia in geografia e del resto nella vita di tutti i giorni uno dei principali problemi è l'orientamento dunque la posizione di una stella nella sfera celeste viene determinata con metodi del tutto simile a quelli che noi usiamo per individuare la posizione di un punto sulla superficie terrestre i metodi usati sono essenzialmente due il metodo azimutale e il metodo equatoriale o polare posso fare una domanda grazie